Ma che se mi mangia questo? Non mi traccia, cioè io mi faccio chiamare franzo. Allora, cioè io non mando più ripasso. Cosa succede all'Iron Gym? Oh, oh, oh! Ma se ti rendi qua, devo arrivare a trovare altri clienti come ieri sabatoi. Oh no? Ma, clienti con... Che? No, l'Iron Gym, clienti come ieri sabatoi, non li trovo. Ma, tipo... Noi siamo squattrinati, però... No, a Max. A Max. Massimo! Allora, vabbè. Giulio, fai una sigaretta, piuttosto. Ah, non ti accompagno, sì. Andiamo!